Eccoci, in un paese normale non bisogna farci titoli, il lavoro non c'è, basta inventarlo, perché in un paese normale la politica provvede con dei seri piani che garantiscono alle aziende di poter assumere e creare occupazione e garantiscono al lavoratore di non accettare il ricatto magari dell'unica azienda che lo assume con certe caratteristiche, prendere o lasciare fuori dai coglioni, perché in un paese normale il lavoro c'è, il lavoratore può cercarsi quello che meglio gli aggrada. Nel nostro ci sono o quelli sempre attaccati al solito lavoro, quelli che hanno il posto fisso sicuro garantito o quelli che non hanno niente e poi ci sono le vie di mezzo, le vie di mezzo sono quelli che un lavoro se lo cercano verso i lavoratori di Alitalia, quelli che un lavoro ce l'hanno sempre avuto, quando c'è stata crisi sono stati garantiti dai soldi pubblici, adesso c'è di nuovo crisi e rivorrebbero il loro diritto al lavoro, basterebbe però anche che lavorassero a volte, ma questa è una riflessione mia. Allora nella rubrica di Fabio Bati, il bianco e il nero, andiamo a vedere l'esperienza da una parte di uno che si è messo in proprio e diventato imprenditore per affrontare la crisi, dall'altra quella dei lavoratori di Alitalia. Va in regia con Fabio Bati. Sono Giulio Lupo, assistente di volo, lavoro in Alitalia CAI dal 2008. Sono Enzo Muscia, amministratore unico della società A Novi Italia SRL, che ha sede a Saronno ed è una società che nasce dalle ceneri di un fallimento. Era la filiale di una multinazionale francese, filiale italiana. I 320 dipendenti che la occupavano vengono messi in casa di integrazione, tra quelli ci sono io che ai tempi mi occupavo di vendite, quindi ero impiegato nell'area commerciale, che decido, quando vedo che tutto finisce, decido di rimettere in piedi questa azienda perché credevo nelle capacità e nelle potenzialità, nel know-how che avevamo e non poteva finire tutto così. In Alitalia sicuramente ci sono stati diversi errori. Gli errori sono stati quelli di portare l'ennesima volta l'azienda nel fallimento. Sicuramente non è colpa dei lavoratori, perché i lavoratori giustamente hanno dato tutto quello che potevano dare, il contributo anche economico è stato dato nel 2014. Quest'ultimo colpo che ci è stato dato, cioè quello di non pagarci gli stipendi per intero, il mese di maggio, è stato sicuramente un colpo basso. Capiamo che la legge prevede certamente cose, ma speravamo un aiuto un po' più concreto in questo senso. Quando tu hai un'azienda dove ci sono dei lavoratori che sono altamente orgogliosi di lavorare per tale azienda, dovresti esserne fiero invece che attaccare ancora una volta quelli che sono la tua più grande risorsa. L'ipotecare la casa era simulare qualche risparmio degli anni precedenti e acquisì quella che era la scatola vuota, quindi la Novitalia SRL, acquisì tutti gli asset, quindi la parte di struttura dal curatore fallimentare e assunsi quelli che erano i miei ex colleghi, i primi otto ex colleghi che erano in casa di integrazione e partimmo. Oggigiorno tutto quello che concerne i sacrifici, che sono della vita privata, di questo lavoro, non vengono più ripagati. Non è solo un discorso economico, ma proprio un discorso di comportamento da parte dell'azienda verso i lavoratori. Noi sostanzialmente lavoriamo con una base molto bassa, molti di noi prendono gli 80 euro di Renzi per intenderci, visto il nostro CUD così privilegiato. C'è gente che questo mese ha preso 550 euro di stipendio e questo per far capire cosa vuol dire poi il cottimo. Il cottimo vuol dire che più io vado in volo, più io guadagno così. Cioè io devo per forza lavorare per poter portare uno stipendio che non è mai fisso, non è mai uguale tutti i mesi. Successe quando guardai il giorno dopo, il cosiddetto the day after, perché il giorno prima tutti questi colleghi, tutta questa produttività, quindi un'azienda che funziona bene, fa margine, non c'è nessun sentore di nessun fallimento, e il giorno dopo invece venire a conoscenza, venire informati dalle strutture preposte che stavamo andando in cassa integrazione perché avevano deciso di tagliare la fila all'italiana. Quindi quello che mi scatenò il coraggio fu cosa possiamo fare noi, oltre a lamentarsi va bene, ma al contempo cosa possiamo fare, cosa posso fare io. Noi la vorremmo vedere volare questa azienda e sappiamo benissimo che il potenziale c'è, perché in Italia sostanzialmente, essendo un paese veramente ricco, non vedo perché non si possa far vivere una compagnia di bandiera. Oggi possiamo dire che siamo quadruplicati, abbiamo raddoppiato il fatturato, è una bella realtà formata da una bella squadra che reputo la mia famiglia. E allora, avete visto, sono due casi estremi, sono due esperienze, ma servono questi servizi anche per riflettere, perché tutte le volte che io vi sbatto qua, 5, 6, 8, 12, 15 politici, molti di loro o hanno delle ricette improponibili o dicono di aver attuato delle ricette che però nella pratica non hanno portato a niente. Allora bisogna arrangiarsi anche con la testa e anche col pensiero, perché le trasmissioni servono se si confrontano le esperienze. Di nuovo Fabio Batti. L'azienda si occupa di assistenza post vendita dei prodotti elettronici, che vuol dire che vengono convogliati qui a Saronno dove c'è la sede, tutti quelli che sono gli apparecchi in garanzia, che in caso di guasto devono essere riparati. Per quanto ho vissuto, perché l'ho vissuto in prima persona, per quanto riguarda gli organi che ci dovrebbero difendere o che dovrebbero preservare il diritto al posto di lavoro, nel nostro caso, a parte qualche bandiera dopo i giorni di messa in cassa integrazione, non ho visto nessun risultato portato a casa nei confronti della lotta contro la multinazionale piuttosto che contro la parte interna, quindi la parte di governo. Mi chiamo Giuseppe Ragusa, faccio parte dell'Unione Sindacale di Base dell'Esecutivo regionale della Lombardia. Mi fa piacere che ci sono persone che si vogliono lanciare in imprese, mi fa altrettanto piacere che ci sono persone salariate che hanno una dignità, come tutti gli altri aventi diritto in questo paese di sopravvivere in maniera dignitosa. Abbiamo avuto accesso alla cassa integrazione e sappiamo benissimo che è l'ammortizzatore sociale che si ha a disposizione ma che ricade poi ancora una volta sul cittadino. Il concetto del lavoro stabile deve rientrare nelle politiche nazionali e fare in modo che questa sia uno Stato, una popolazione che riesca a sognare di avere quello che i nostri genitori avevano, una casa, una famiglia, tutti i valori che non si sono dimenticati, non si sono persi, perché comunque vadano le cose, sono alla base dell'essere umano. L'essere umano non può essere svenduto. Oggi, nei giorni che verranno e negli anni che verranno, il tempo indeterminato io lo vedo come non tanto un contratto che mi garantisce il lavoro a tempo indeterminato ma come formazione che deve avere il lavoratore in modo tale da assicurarsi con la propria conoscenza un posto di lavoro nel nuovo mercato che è quello digitale, quindi ci sono tante attività o mansioni che sono ricercate dove non siamo preparati, quindi io punterei molto sulla formazione del lavoratore. Ma lei dice questo perché il tempo indeterminato a voi imprenditori costa troppo in questo momento? Il tempo indeterminato costa, costa troppo, riferito agli altri paesi, perché il costo del lavoro in Italia lo conosciamo tutti. Viene meno quel concetto per cui il lavoro è inteso come una condizione stabile di concetto per cui la mia vita può essere programmata e gestita, in quanto il lavoro ormai è stato svenduto ai più attraverso contratti frammentati a tempo determinato, contratti che hanno vita di una settimana e cosa danno come prospettiva al lavoratore dipendente? Nulla, perché non esiste luogo dove io possa programmare la mia vita se non ho una stabilità e un futuro. È la tassazione che dovrebbe essere abbattuta in modo tale da dare spazio a nuovi investimenti, nuovi posti di lavoro e un'economia che riparte. E non è ancora così? Non è ancora così assolutamente. Noi lavoriamo, le faccio un esempio, per quello che posso conoscere, noi lavoriamo come Annovitaglia a sei mesi dell'anno, quindi fino a giugno, per l'azienda, per creare utili per l'azienda e i successivi sei mesi per pagare le tasse. Quindi questo le fa capire che margine di spazio ha l'impresa oggi per poter reinvestire in nuove posizioni, in nuove attrezzature e sviluppare nuovi posti di lavoro. E rieccoci, ultima parte del bianco e nero, da una parte chi ha fatto da sé, dall'altra quelli che ci chiedono ancora di fare per loro, ovvero sia i lavoratori all'Italia. Seguiamo ancora questo confronto e poi ci ritroviamo per le conclusioni. Presto un servizio e per tale devo essere pagato. Non chiedo niente di più che quello che è un diritto basico. Il mercato del lavoro è un mercato che evolve rapidamente, che ha bisogno, come dicevo prima, di formazione anche per quanto riguarda l'imprenditore, quindi di sfruttare nuove tecnologie, nuovi approcci, un'azienda sempre più snella, sempre più flessibile. Lottare per il lavoro avrà sempre senso, a meno che loro non vogliano un paese svuotato o di schiavi. Allora a questo punto sarà sempre, la motivazione sarà sempre valida, bisognerà sempre lottare. Per poter rimanere a galla oggi e garantire i posti di lavoro che ho attualmente, che sono 34, ho dovuto mettere in pratica tutti quei concetti di innovazione, quei concetti di snellezza per quanto concerne i processi, per quanto concerne le figure all'interno dell'azienda. Il costo del lavoro diventa un costo quando tu vuoi troppo o quando tu hai sbagliato. Se tu perdi qualsiasi cosa è un costo, può essere un costo anche la mattina al caffè al manager a questo punto. Cosa c'entra? Il costo del lavoro non è un costo, è una voce che va messa sui ricavi. Noi facevamo parte di una multinazionale che contava circa 6.000 dipendenti, aveva 13 filiani in tutta Europa, di questo tipo di attività. Posso solo ricordare che erano ingessate appunto da non avere tutti i processi, e a livello strutturale dell'azienda e a livello proprio di produttività per quanto concerne i servizi erogati, che erano ingessati, costi mal gestiti e quindi il risultato è sempre poi il costo maggiore del ricavo e la prima cosa che si fa è che si tagliano i costi. I costi uguali non la materia prima ma i posti di lavoro. Questa è una scorretta gestione che purtroppo esiste e sempre di più quanto più grande è l'azienda, quanto più grande è la multinazionale. Sono uniti, si va avanti, nel senso che se io mi devo mettere a manifestare per una società che non è all'Italia, l'ILVA, in questo momento che è messa forse allo stesso livello di all'Italia, quindi poi tra l'altro anche gli stessi commissari più o meno, quindi penso proprio di sì, o devo manifestare per la tele con la team o per qualsiasi altra categoria, anche quella che ha solo 50 lavoratori, io scendo in piazza e manifesto. Ma questo perché? Perché deve essere proprio un no dei lavoratori in generale, è un no della classe dei lavoratori perché non si può ancora andare avanti pensando di poter ridurre ancora di più all'osso quelli che sono gli stipendi o quello che è addirittura il ricatto del posto di lavoro, non si può vivere così. Avendolo vissuto prima avevo capito, se vuole, avevo visto in anticipo che questo non era un mondo che poteva finire, era una competenza che doveva essere rimessa sui banchi, sui processi, sui magazzini e quant'altro, quindi la immaginavo proprio così. Io quando sono ripartito ho pensato di riacquisirla, l'immagine che avevo in testa era proprio questa, questa che vedo oggi, di questi miei collaboratori, con del lavoro, con l'esperienza che avevamo rispolverata, rimessa in gioco, con tanta innovazione che proponiamo nei servizi che eroghiamo, un'azienda snella, questo è il segreto, snella che abbatta tutti i costi. Per quello che riguarda l'utenza che sceglie l'Italia auguro veramente le vacanze migliori e che prendano tutti i nostri voli perché l'operatività penso proprio che non sarà mai sospesa, sicuramente non per volere dei lavoratori, a meno che non ci siano delle fasce di sciopero già stabilite, ma questo sempre dipenderà dalla dirigenza, non dai lavoratori, questo dipenderà da quanto ancora vogliono spingere con le spalle al muro il lavoratore. Per il resto io auguro a tutti gli italiani di viaggiare con l'Italia perché sostanzialmente noi siamo sicuramente il valore aggiunto di questo paese. Ecco, avete visto, ognuno si faccia il giudizio che crede, l'importante è far funzionare la testa, quella che non ci vorrebbero tanto far usare in questo periodo. Noi dopo la pubblicità, prima ancora della rubrica di Vittorio Feltri, Feltri preso a parole, rubrica che è seguitissima, che so che aspettate ogni mercoledì, noi dopo la pubblicità parleremo del referendum per l'autonomia della Lombardia, dalla quale trasmettiamo, e del Veneto, un tema anche nazionale. Andremo a capire cosa hanno immagazzinato i militanti della Lega perché di questo tema si parlerà e come nei prossimi mesi. A tra poco dopo la pubblicità. A tra poco dopo la pubblicità.